Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. NAMRU3. Scommetto che se pronunzio questa sigla, pochi, forse nessuno, sapranno a cosa concretamente essa rinvii. Che cos'è dunque NAMRU3? La sigla è ovviamente un acronimo e sta per Naval Medical Research Unit 3. In sostanza è il reparto della marina statunitense che si occupa delle ricerche e delle sperimentazioni sui virus e sui batteri. È tutto ufficiale, nero su bianco come usa dire. Trovate tutto nel sito ufficiale dell'ente NAMRU3 in rete. Nessun complotto e nessuna dietrologia dunque. Ufficialmente NAMRU3 si occupa in particolare dei patogeni che possono infettare le truppe a stelle e strisce disseminate per il mondo. principalmente in quei luoghi che sono sanitariamente difficili per così dire. E sempre ufficialmente apprendiamo che NAMRU3 si occupa soprattutto di malattie enteriche, di epatiti, di tubercolosi, di meningiti, di HIV e non in ultimo di infezioni acute respiratorie. Sì, di infezioni acute respiratorie, avete capito benissimo. NAMRU3 nacque nel lontano 1946 e dal 1946 al 2019 rimase stabilmente in Egitto. Tuttavia vi è adesso una novità su cui ha portato recentemente l'attenzione il giornalista siciliano Antonio Mazzeo, poi ripreso da Maurizio Blondè. Dal febbraio del 2019 NAMRU3 ha preso a trasferirsi in Sicilia, presso la base statunitense di Sigonella. Il trasloco è terminato nel dicembre 2019. Ne dà notizia ufficialmente il sito internet della USA Naval Forces Europe Africa, anch'esso consultabile in rete. Il quale sito così testualmente scrive E precisa nelle righe che seguono e che qui per comodità traduco, NAMRU3 ha iniziato il suo trasloco dal Cairo alla stazione aerea di Sigonella, Italia, con una cerimonia durante la quale il capitano Marshall Monteville ha assunto il comando dell'unità il 12 dicembre 2019. Insomma, questo solenne trasloco si è concluso appena due mesi prima che divampasse il ben noto contagio da coronavirus in Italia. E' ben poco tempo prima, poco più di un mese, che il Consiglio dei Ministri italiano, nella sua riunione del 31 gennaio 2020, consultabile nella Gazzetta Ufficiale, Non vediamo alcuna causalità all'opera, sia chiaro. Non ci sogniamo di affermare che A abbia causato B, né per la medesima ragione possiamo escluderlo a priori. Non abbiamo alcuna prova, ripeto, che A abbia causato B, e sarebbe dunque puro dogmatismo affermarlo. Solleviamo tuttavia alcuni dubbi. Intanto perché il governo italiano e i canali dell'informazione ufficiale non hanno informato i cittadini italiani di ciò che stava accadendo? Perché l'attenzione giornalistica, oggi così attenta ai balconi su cui si canta come bello far l'amore, non hanno ritenuto degna di nota questa notizia, certo non del tutto marginale? E poi perché è avvenuto questo trasferimento dall'Egitto a Sigonella? E perché proprio nel dicembre 2019? Molte domande dunque, alle quali difficilmente avremo risposta. Ma non per questo rinunzieremo con forza sempre rinnovata a porle.